È svanita perché l'Audi ha 100 cavalli più dei nostri, abbiamo già fatto tanto arrivare terzo io con la mia macchina, che tra l'altro è una macchina un po' inferiore a tutte le altre. Ho fatto una bellissima gara, sono contentissimo, contento per mio figlio, contento per me, più di così non potevamo fare, è la prima volta che facciamo il podio tutti e due assieme.